Cercavo di far salire la squadra più che altro, cercavo di tenere la squadra più alta possibile e urlavo per quel motivo, perché comunque più lontane tenevamo gli attaccanti dalla nostra porta era la cosa migliore e urlavo per quel motivo perché vedevo che comunque ci stavano abbassando e loro ci giocavano perché giocavano su questa palla buttata e sulle seconde palle infatti magari c'è stato quei primi dieci minuti, un quarto d'ora che la riprendevano sempre loro Il mister è uno che comunque ci ha detto di stare tranquilli, ha fatto una settimana molto tranquilla nel senso molto mentale, psicologicamente ci ha detto di stare bene, tranquilli che è quello che dobbiamo fare perché comunque andare in campo con ansia e paura è sempre peggio rispetto comunque a andare, noi dobbiamo giocare giustamente con le nostre responsabilità ma serenamente cercando di far bene e di fare meno errori possibili, questo è poco la sicura Comunque per noi è stata come una sconfitta perché comunque era troppo importante come poi si era messa la partita e portare a casa quei punti era veramente fondamentale perché comunque ci buttavamo dietro un po' di squadre ed era fondamentale per noi Purtroppo siamo stati dei polli perché comunque farci pareggiare così dalla fine è stato un errore nostro complessivo perché io sono uscito sull'attaccante che ha messo la palla in mezzo e dovevamo stringere meglio con la difesa su quello che ha colpito Poi magari Thomas forse l'ha battezzata fuori la palla, non lo so perché ancora magari non ci siamo sentiti Giustamente ripeto, è stato un errore complessivo e dovevamo evitarlo sicuramente perché prendere un gol così del genere in quel modo negli secondi finali è veramente tosta però purtroppo è andata e adesso dobbiamo solo pensare a lavorare e pensare al Pordenone